Nel 8 giugno a Roma ci sarà l'Assemblea Generale 2017 di Co-Commercio, un momento importante per focalizzare e approfondire i temi che interessano le categorie che noi rappresentiamo, in particolare i temi del turismo, sui quali evidentemente molto spesso vengono approfonditi quelle che sono le potenzialità di rilancio anche per il benessere non solo delle nostre imprese ma anche del Paese. Sarà importante condividere i commentari su Facebook e Twitter usando l'ashtag Co-Commercio 2017 per dare sempre più forza alle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti e soprattutto dei pubblici esercizi.